Una collezione di audiolibri scaricabili direttamente da internet per le persone che hanno difficoltà a leggere un libro cartaceo. Un'opportunità offerta dal Lions Club di Cinisello Balsamo, che in collaborazione con il Centro Culturale Il Pertini, mette a disposizione oltre 8.000 titoli tra poesie, letteratura classica, narrativa e saggistica, oltre a diverse opere in lingua originale e letteratura per ragazzi, letti e registrati da volontari. I libri possono essere scaricati dal sistema bibliotecario del Pertini, in questa circostanza. I libri possono essere fruiti anche da altre persone con disabilità, quali possono essere i dislessici oppure persone anziane che non sono in grado di leggere. L'accesso al servizio è gratuito per tutti coloro che per comprovata disabilità non sono in grado di leggere. Iscriversi è molto semplice, basta rivolgersi al personale della biblioteca e chiedere una password, con la quale è possibile scaricare autonomamente gli audiolibri da www.libroparlatolions.it, scegliendo da un catalogo organizzato per titolo, autore, genere, argomento e voce. È inoltre possibile salvare i titoli desiderati su un supporto USB o riceverli direttamente a casa su CD. Con questo progetto, grazie al sostegno e alla collaborazione dell'Ions Club, il centro culturale Pertini ampli ulteriormente le loro offerte in maniera coerente con la sua mission.